I migranti, dal primo giugno oltre 34 mila persone sono state accolte all'hotspot di Lampedusa. Intanto non si arrestano gli sbarchi che sono continui. La scorsa settimana è il naufragio in cui sono morte 41 persone. La macchina operativa sull'isola Reggio è soltanto perché chi arriva viene accolto e quasi subito trasferito. L'inviata è Valeria Ferrante. Nel tratto di mare tra la Tunisia e le coste della Sicilia le speranze sfidano le onde e i venti. Non trovano pace. Uno dopo l'altro, barchini in ferro carichi di migranti partono da Sfax e vengono quasi sempre recuperati alla deriva dalle moto vedette della Guardia Costiera. Dall'inizio di giugno gli operatori della Croce Rossa hanno accolto all'hotspot 34 mila migranti riuscendo ad attrezzare la struttura anche per il doppio delle presenze previste. Sono giorni di sbarchi continui, abbiamo raggiunto un record. Sì assolutamente, dopo diversi giorni di brutto tempo adesso il mare calmo favorisce la migrazione della macchina organizzativa in moto. Si fa di tutto per non pesare né sull'hotspot né sull'isola di Lampedusa. È partita anche la nave d'attilo della Guardia Costiera, questo proprio come segnale che nel mare continuano ad esserci barchini. Si prevedono tanti sbarchi. Il sistema regge soltanto perché chi arriva viene subito trasferito altrove.